Il mercato ittico di Salerno, il luogo dove ieri si è consumata la tragedia costata la vita a Rosario Montone, 58 anni, responsabile per Salerno della Eurofish di Napoli e Carmine De Luca, 48 anni salernitano, dipendente della stessa società che opera all'interno del mercato all'ingrosso, dove si riforniscono tutte le pescherie e ristoratori, oggi si è rimesso lentamente in moto. Tra gli operatori grande sconcerto e dolore, tutti conoscevano i due lavoratori ed anche Francesco Iacovazzo, che era stato un ex dipendente ed attualmente era rivenditore di pesce. Per tutti un personaggio un po' sulle righe, ma non al punto da temere il raptus di follia, che ieri lo ha portato a premere il grilletto dell'arma detenuta legalmente e ad esplodere quattro colpi contro Rosario, morto sul colpo, e Carmine, colpevoli, secondo Francesco. Del suo licenziamento, perché accusato di aver rubato una cassetta di pesce. Ieri sera, Francesco Iacovazzo è stato condotto al carcere di Forni. Oggi, mentre l'area dove si è consumata la tragedia è stata transennata ed è stato vietato l'accesso, perché sarà necessario ancora compiere una serie di rilievi, per aiutare il lavoro attraverso il quale la polizia scientifica deve ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto alle 4.30 di ieri mattina, un'altra parte del mercato ha cercato di riprendersi. Nei due obitori, all'ospedale di Salerno e a quello di Battipaglia, si attende che venga completata l'autopsia sui corpi delle due vittime, tra lo strazio di amici, familiari e parenti. Solo dopo, infatti, l'esame potranno essere restituiti alle famiglie per l'ultimo saluto. Grazie.